Salve, o tutta santa, ancora una trasposizione polifonica di un'antica titola. Francesco Soriano, discepolo di Palestrina e maestro della cappella giudiale di San Pietro di Capitano, scrise in finita parte barocca all'inizio del secenito, Ave Regina Cenovo. Salve, o tutta santa, ancora una trasposizione polifonica di un'antica titola. Salve, o tutta santa, ancora una trasposizione di un'antica titola. Salve, o tutta santa, ancora una trasposizione di un'antica titola. Salve, o tutta santa, ancora una trasposizione di un'antica titola. Salve, o tutta santa, ancora una trasposizione di un'antica titola. Grazie a tutti. Grazie.